Daryl Morey Bah, Daryl Morey, Arden ha giocato un ruolo importante nelle Cancelletto 039.Arrivo di Paul Gli Houston Rockets sono stati protagonisti di questa estate, infatti l'arrivo di Shrews Paul in Texas è stato etichettato da tutti come l'affare dell'anno. . James ha ottime doti comunicative, in questo periodo è stato un ruolo importante per l'operazione mandata in porto dai texani, ed ha preferito elogiare l'atteggiamento tenuto da James Arden, fondamentale, a suo dire, per il buon esito delle trattative, io ho semplicemente svolto il mio lavoro, decisivo è stato Arden che ha corteggiato Paul a lungo, convincendolo di venire da noi. . James ha ottime doti comunicative, in questo è un maestro. Un backcourt da mille e una notte quello dei Rockets. Paul da Point Guard, Arden da due. Questo dovrebbe essere l'assetto di Houston nella prossima stagione. . Morey non è per nulla preoccupato del fatto che le due stelle potrebbero in un certo senso pestarsi i piedi, Paul è un ragazzo tranquillo, un grande lavoratore, ci ho parlato e si è detto pronto ad intraprendere questa nuova avventura. . Lui ed Arden formeranno una coppia sensazionale, si competeranno insieme. Possiamo toglierci parecchie soddisfazioni. Siamo felici di come abbiamo operato sul mercato. . Fonte, profilo Instagram ufficiale Houston Rockets. Rapporto speciale tra e due, sia dentro i palazzetti che fuori, lo certificano le parole di Morey, che è parecchia sintonia tra e due perché si conoscono bene. Sono amici, si frequentano anche fuori dall'universo un back. . . Passano tempo insieme, poi James è un ragazzo con valori, è molto bravo a convincere le persone e quindi ha giocato un ruolo fondamentale nel buon esito della trattativa con Chris. . Averlo in squadra uno come il Barba, rende il mio lavoro più semplice. . 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